vediamo adesso come creare degli oggetti e delle scanalature su un muro andiamo su muro e lo creiamo generico 30 cm a questo punto vado in terza dimensione per vedere il nostro muro seleziono il muro premo il tasto struttura, modifica, anteprima questa è la pianta del muro io mi metto in sezione verticale mi si aprono una serie di informazioni e opzioni creiamo un'estrusione estrudi profilo aggiungo lascio questo per ora come default distanza dalla base 0 mi sta bene applico vedete ho inserito un elemento qui in basso ok ora faccio una scanalatura scanalatura profilo aggiungi default mi sta bene la faccio da terra a un metro per esempio uno ok vedete ho inserito una scanalatura a questo punto do l'ok ok ecco qua il nostro muro con la jet e la scanalatura bebe quanto da a questo punto do l'ok